Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Pisa code tra Firenze Ovest e Prato Est. In direzione Firenze code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla Fipili in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci. L'entrata di Colle Salvetti in direzione Rosignano è chiusa per lavori fino a domani mattina alle 8. Su raccordo Siena-Bettolle per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra Casetta Monte Aberti e Castelnuovo-Berardenga. La viabilità cittadina a Firenze in via Pisana di vieto di transito per lavori da via di Scandicci a via Veneziano. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!